Oggi si ritorna a rapinare il deposito giudiziario, benvenuti in questo nuovo episodio della mod vita da gangster. Come vedete ho riportato Tiffany e altre ragazze della gang The Families e in più ho preso questa fantastica coruma blindata che ci servirà per difenderci, perché come sapete lì c'è tanto da sparare e quindi abbiamo bisogno di un'auto blindata. Perfetto, andiamo in macchina e andiamo subito al deposito perché ho voglia di rapinarlo. Ora vi faccio sentire il clacson della coruma. Ragazzi, questo è un vero clacson da vero gangster. Sentite un po'? Oh no ragazzi, questo clacson spacca di brutto. Va bene dai, non perdiamo tempo e andiamo subito al deposito giudiziario. Non so se vi ricordate ma un paio di episodi fa siamo già stati al deposito giudiziario ma io come lo scemo mi presi solo un milione di dollari. Invece questa volta voglio prendere tutto ragazzi, tutto. Deve essere tutto mio. Quindi andiamo subito e ammazziamo tutti ovviamente. Vai Tiffany, questa volta devi sparare eh. Non ti ho portato in queste settimane ma questa volta devi sparare di brutto. Perfetto ragazzi, siamo arrivati. Vediamo un po' la situazione. Io vorrei fare una cosa ragazzi, vorrei fare una cosa. Parcheggiamo qui la coruma, ovviamente scendiamo a piedi, ripuliamo il parcheggio e poi portiamo la coruma all'interno perché ho voglia di sparare diciamo da strada in strada ragazzi, non in macchina. Ok, partiamo subito da questo, preso subito in testa. Venite, 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 venite. Abbiamo due stelle della polizia. Questi qui non si sono accorti di niente ragazzi perché abbiamo il silenziatore. Eccoli qui. Cosa volete fare? Vi ammazzo tutti, vi ammazzo tutti. Ok, vediamo se ci sono altri poliziotti. Li vedo, li sento. Eccolo lì. Vai, spunta, spunta. Bam, bam, bam. Benissimo. Vai, sparate anche voi, sparate anche voi. Eccolo qui. Oh, questo mi sta ammazzando. Vai, spunta. Bam, 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 bam. Questo fucile ragazzi è fantastico. Vai, prendiamo subito la coruma e parcheggiamola qui. Così dopo ragazzi possiamo scappare. Venite, venite, venite. Sta arrivando anche la polizia. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Dobbiamo sbrigarci. Abbiamo la polizia qui. Ok, io la prendo e parcheggio subito la macchina all'interno. Perfetto, perfetto. Venite, 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 venite. Allora, mettiamo la macchina in questa posizione così possiamo anche fuggire dopo. Ok, perfetto. E ora andiamo all'interno ragazzi. Ce ne freghiamo dell'esterno. Ora dobbiamo pensare all'interno. Vediamo un po' chi c'è. Per il momento non c'è nessuno. Bene, noi dobbiamo andare all'interno di questo ascensore. Perfetto, andiamo. E vediamo un po' chi c'è ragazzi. Vediamo un po' chi si nasconde. Ok. C'è qualcuno ragazzi, c'è qualcuno. Me lo sento. Oddio, oddio. Sparate, 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 sparate. Oddio, c'è uno con l'RPG. Vai, vai, fermatelo subito, fermatelo subito. Oh mio Dio, oh mio Dio, fatemi ricaricare. Devo anche rigenerare la vita. Perfetto, mettiamoci un secondo così. Dove credi di andare? Dove credi di andare? Oddio. Fermi, fermi, fermi. Ok. Vai, andiamo, 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 andiamo. Andiamo all'interno. Devi morire. Dovete morire tutti. Dovete morire tutti. Inutile che scappate. Inutile che scappate. Ok, siete pronte? Siete pronte? Andiamo subito all'interno. Vediamo se c'è un altro poliziotto. Eccolo! Che fai tu? Che fai? Che fai? Ti ammazzo, ti ammazzo. Non avete capito niente. Qua mi prendo tutto. Bene ragazzi, vediamo un attimo di prendere la valigia che dovrebbe stare in questa stanza. Vediamo un po'. Eh, sì, dovrebbe stare qui. Vediamo. Ok, eccola ragazzi. Abbiamo cinque stelle della polizia. Oh mio Dio, oh mio Dio. Quindi ho fatto bene a mettere la kuruma nel parcheggio. Quindi se riesco, devo riuscire a prendere la kuruma e scappare. E seminare la polizia. Ok, venite ragazzi, dai. Ragazze, no ragazzi. Venite ragazze, dai. Dobbiamo scendere giù questa volta. Apri, apri l'ascensore. Perfetto. Ok, ricarica intanto. E vediamo un po' la situazione ragazzi all'esterno. Credo che ci sia qualcuno che ci sta aspettando. Ok, per il momento no. Stanno sparando di brutto ragazzi, so solo questo. Stanno sparando di brutto. Ok, vediamo un po'. Ma chi cavolo sta sparando? Sono le ragazze della gang dei Femiris. Per forza, per forza. Vai, 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 vai. Ammazziamoli anche noi. Prendiamo la K47 questa volta. Benissimo. Oddio, mi stanno togliendo tantissima vita. Grande Tiffany. Abbiamo anche la SWAT. Vai, vai. Cercate di fermare tutti. Ok. Non li vedo, non li vedo. La kuruma dovrebbe stare lì. La kuruma dovrebbe stare lì. Perfetto ragazzi. Il tempo un attimo di organizzarmi. E proviamo a prendere la kuruma ovviamente. Abbiamo anche un RPG volendo, eh. Abbiamo anche un RPG. Ma non me la sento di sparare in queste stanze chiuse. Perché come sapete un RPG potrebbe fare tantissimi danni. E quindi potrebbe colpirci anche a noi. Vai, per il momento non li vedo. Non vedo nessuno ragazzi. Non vedo... Eccoli, eccoli. Eccoli. Cerchiamo di non farci ferire. Dai, aiutatemi ragazze. Mi dovete aiutare. Mi dovete aiutare. Eccoli, poliziotto di merda. Ragazzi, io devo riuscire ad andare nella kuruma. Se riesco ad andare nella kuruma sono salvo. Ovviamente, no? Se riesco ad andare. Se riesco. Vai, grande, grande. Sparate, 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 sparatevi. Bravissime, bravissime. Sono veramente forti queste ragazzi. Sono fortissime. Vai, vai. Prendiamo questo dello SWOT. Bravissime. Devo cercare di andare nella kuruma, ragazzi. Devo cercare di andare nella kuruma. Vai, 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 vai. Sali, 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 sali. Ok. Qua siamo salvi. Siamo salvi. Salite, salite che vi aspetto. Oh, mi hai rotto le scatole. Ok. Dai, ti prego. Devi sbrigarti, altrimenti ti lascio qui. Ok. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Ci siamo riusciti. Dobbiamo solo scappare e seminare la polizia. E abbiamo fatto tutto. Grande kuruma. Levatevi. Ottimo, scappiamo, ragazzi. Dobbiamo assolutamente scappare. Cosa fai? Cosa fai tu, poliziotto di merda? Cosa fai? Guardate la SWOT. In tenuta antisommossa. Incredibile. Dai, cerchiamo un attimo un posto dove scappare. Di solito si dovrebbe andare nella ferrovia. Si dovrebbe andare nella ferrovia per scappare, ragazzi. Quindi vediamo un attimo se possiamo scendere. Perfetto. Qui ci siamo, ci siamo, ci siamo. Bene, 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 ragazzi. Dobbiamo solo cercare... Dobbiamo solo cercare... Come si chiama? Il tunnel. E siamo salvi, ragazzi. Siamo salvi. Se prendiamo quel tunnel, siamo salvi. Quindi vediamo un po' se sta in queste zone. Ecco un'altra macchina della polizia. Ovviamente questi li ammazziamo. Vai, vai. Vai, sparate, sparate. Ho un'arma schifosa, ragazzi. Ok, uno lo abbiamo ammazzato. Perfetto. Vediamo un attimo di cercare la galleria, come vi ho detto. Che dovrebbe stare qui nei dintorni. Oh, lì abbiamo... Eccola! Eccola, perfetto. Andiamo, 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 andiamo. Piano. Non ti ribaltare. Perfetto. Che qui ci salviamo. La polizia sembra che... Che non ci sta seguendo. Perfetto. Ok, piano, 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 piano. Ok. Vediamo se riusciamo a seminare la polizia qui sotto, ragazzi. Penso di sì, penso di sì. Ok. Noi andiamo sempre avanti. È sempre meglio, ragazzi, proseguire per questa strada. Così almeno non riescono a vederci all'esterno. Ok. Qui possiamo un attimo tirare un sospiro di sollievo. Perché, come vedete, non ci stanno cercando più. Quindi dobbiamo aspettare che le stelle vanno via e dobbiamo ricevere la ricompensa, ovviamente. Dai, ci proviamo. Speriamo. Speriamo. Dovrebbe essere così. Ok. Salite lentamente. No, sono finita in acqua. Ma questa macchina può camminare. Sì, ragazzi, la Kuruma può andare dappertutto, eh. Non si scherza con la Kuruma. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Non so dove stiamo andando, ma... Ci stiamo salvando, ragazzi. Oh, mio Dio. Si sale qui. Bene. Bene. Ora le stelline devono andare via. Perché io mi sono salvato. Qui sotto non mi può cercare nessuno. Ok, c'è questo. Sono una milklaxon. Dai, balla. Ok, Tiffany c'è. Guardate, ragazzi. Sono tutte sporche di sangue. Incre... Uuuuh. Undici milioni di dollari, ragazzi. Guardate un po'. Undici milioni e sessanta tre mila dollari. Incredibile. Che bottino. Che bottino, ragazzi. Abbiamo undici milioni, più altri che comunque ho in banca. Quindi abbiamo su, per giù, eh, quindici milioni di dollari. Quindi possiamo comprarci veramente tante cose. Quindi poi prossimamente, ragazzi, mi comprerò tante cose fighe. Devo un attimo cercare di trovare una strada per risalire. Vediamo un po'. Se io seguo il tram, il tram dovrebbe portarmi alla stazione, alla prima fermata del tram. Quindi vediamo un attimo di seguire questa strada. Ok. Sinistra a destra, a destra. Fermo. Ok, siamo arrivati, ragazzi. Siamo arrivati alla stazione. Quindi possiamo... Oh, ma non va. Siamo arrivati alla stazione. Quindi possiamo anche abbandonare la Kuruma. Scendete, scendete, scendete. Vai, scendete. Deviamo le armi. Perfetto, ragazzi. E ce ne andiamo tranquillamente a casa. Incredibile, incredibile. Loro dovrebbero salire. Perfetto. Guardate. Non è successo niente. Non è successo niente. Abbiamo 11 milioni di dollari e ce ne stiamo andando a casa. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Bye, bye. Ecco Tiffany. Guardate, ragazzi. Siamo sporchissimi. Siamo veramente, veramente sporchi. Dai, usciamo fuori da questa stazione. E ce ne andiamo via. Vai, vai, vai. Venite, 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 venite. Ok, qua si esce. Non abbiamo il biglietto, ovviamente. Ma siamo fuori, ragazzi. Abbiamo seminato la polizia. 11 milioni di dollari. E... Alcune volte ho rischiato anche la vita. Perfetto. Vediamo un attimo di prendere questa macchina. Ok, qui c'è la polizia. Non dovrebbe dirci niente. Ok, levati. Levati, maledetto, che ci serve una macchina. Salite, ragazze. O sparatelo, se fa cazzate. Ottimo, 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 ragazzi. Oh, è rotto. Ti sparo. Oddio. Sali, Tiffany. Salite. Bene. Non vuole salire. Non vuole salire. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi. Abbiamo portato a termine questa fantastica missione. Questo fantastico colpo. Vabbè, ragazzi. Dai. Direi che con questo tu è tutto. Poi, nel caso, io, se posso, farò una live. Poi penserò come spendere questi soldi. Va bene. Ciao, ragazzi. Vi faccio vedere anche l'interno. Guardate come siamo combinati. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.